La compagnia tra l'antitolo porta in scena una bella rappresentazione, appuntamento per mercoledì e giovedì prossimo all'antitolo di Mecchitella. Emanuele Giambusso. Hai detto bene, mercoledì e giovedì porteremo in scena Don Ghisciotto e San Gio Panza, con il Don Ghisciotto, Guglielmo e il San Gio Panza il sottoscritto, è già un tema importantissimo, e perciò invitiamo la gente a venire, a partecipare, il botteghino è già aperto e poi gli appuntamenti in due giorni sono tre, e lo dobbiamo dire, il 20 alle 21 e 30, il 21 alle 18 e 30 e alle 21 e 30. E avete la possibilità poi di replicare nella stessa giornata due spettacoli? E' importantissimo, il giovedì lo facciamo anche per, non sono anziani, diciamo giovanotti un po' più grandi, che magari la sera devono rientrare primo per le cose che hanno, e allora gli diamo anche questa possibilità, anche se sono pochi, però pochi ma buoni. Ma la gente risponde? Sì, 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 alla grande, il 28 abbiamo avuto un canto di successo anche con la briscola, ma comunque Don Ghisciotto e San Gio Panza, e tu me la insegni, non è una commedia solo per grandi, ma anche per bambini, e perciò portate pure i bambini che è importante. Questa sera però non c'è il cinema, c'è il teatro. Sì, stasera c'è il teatro, io ho portato la locantina, abbiamo le vedove allegre con una bravissima e bellissima Barbara Gallo, e inizia Epicicli, è un'altra rassegna teatrale, sempre nel nostro contesto che è l'antidoto, che ospita anche altre rassegne teatrali. Cosa potrà riservarvi il 2016, dopo un 2015 costellato di successi? Ma dico che già si inizia la grande, siamo stati a Messina, abbiamo avuto i successi nella nostra casa, nel nostro teatro, sabato siamo a Campobello Delicata, mi dicono i colleghi di Campobello che già c'è il tutto esaurito, come siamo esauriti noi, esauriamo pure i teatri, perciò questo è anche un successo, dove andiamo la gente risponde, anche fuori.